3 ottobre 1839, 180 anni fa, un giorno che, paragonato a oggi, rappresenta quasi lo sbarco sulla Luna. È un paragone azzeccatissimo. Nella storia dell'uomo, per quasi mille anni, l'uomo ha avuto due velocità di deambulazione, quella del passo umano e quella, dopo l'invenzione della ruota, del cavallo. Un cavallo tira una diligenza a 5-8 km orari. E i cavalli possono essere cambiati non più tardi di 3-4 ore. Poi arriva il treno. Il treno può funzionare per chilometri e chilometri ininterrottamente e porta subito la velocità a 50 km orari. Nel 1890 i treni direttissimi viaggiavano già a quasi 90 km orari. Nel 1939 il record mondiale dei 203 km orari. Siamo passati nell'arco di un secolo da 8 km orari a 200 km orari. È una cosa su cui bisogna meditare, pensare. Questo è stato veramente lo sbarco della Luna del trasporto terrestre per l'uomo. Oltre a uno sbarco sulla Luna che ha prodotto progresso, benessere. Ma voi pensate il tasso con cui i binari crescevano alla fine dell'Ottocento. Si parlava di decine di chilometri posati al giorno nello stivale che non era ancora preunitario. Era la febbre delle ferrovie. Questo mezzo abbatteva le distanze, rendeva comodo ciò che era difficile raggiungere. Diminuiva l'attrito delle vecchie strade sterrate su questo binario liscio su cui la ruota ferrata arrivava a velocità mai viste. E questo ha creato economia, ha creato per la prima volta connessioni. Si immagina come al 1861 all'unità era impossibile mandare un treno da Palermo a Milano perché i sistemi ferroviari degli stati preunitari non parlavano fisicamente le carrozze. Vent'anni dopo era possibile andare da Milano a Roma in treno. E questo è stato, dico a livello italiano, l'importazione della rivoluzione industriale che in Inghilterra l'ha causata il treno e in Italia l'hanno avviata i Borboni dal Miglio d'Oro con la loro prima ferrovia italiana.